In una nota l'organizzazione del Campagna Village chiarisce il motivo dell'annullamento della sesta edizione. Dopo un'attenta verifica di fattibilità portata avanti in questi mesi, impegnati nel tentativo di mettere in piedi la sesta edizione dell'evento, siamo costretti a comunicare alla città, e specie ai bambini e alle loro famiglie, che quest'anno l'evento non si farà, a causa della mancanza delle giuste risorse economiche necessarie alla realizzazione. Per cinque anni, scrivono, ci siamo impegnati affinché si creasse uno spazio di intrattenimento per i nostri ragazzi, ma ogni anno, come organizzazione, abbiamo rimesso fonti personali. Quest'anno, purtroppo, altre spese si sono sommate. Capirete che riesce difficile assicurare la riuscire dell'evento senza la giusta copertura della spesa e senza il giusto supporto del pubblico e del privato. Il nostro più sentito ringraziamento va a chi in questi anni ha riposto fiducia in noi, a chi ci ha supportato sempre.